Siamo qui a Filadelfia, volevo ringraziare chi mi ha dato l'opportunità di entrare a vedere il nostro seggiolino e rivedere il Filadelfia, che era da anni, da quando è stato ricostruito, che non rivedevo. C'è un'amarezza, una delusione, perché questa è casa nostra e penso che quello che mi separa, quei duemila chilometri che mi separano, sono niente. Io da bambino venivo qui, parlavo con i giocatori, guardavo gli allenamenti della primavera, i vecchi mi raccontavano il vecchio drift, volevo fare la stessa cosa io e raccontare quello che avevo visto io del tonno, ma purtroppo questo ci viene negato e spero che la battaglia continui. A Filadelfia dev'essere dei tifosi del Toro e non solo di qualche raccomandante. esco con amarezza, saluto e sempre forza d'oro. Partecipa anche tu il 9 ottobre agli stati generali Granata, l'assemblea del popolo Granata, per confrontarci e ritrovarci nella leggendaria storia che ci unisce, nello spirito di appartenenza, nei nostri sacri valori. Partecipare è un atto d'amore, ti aspettiamo. Per aderire statigeneraligranata.gmail.com Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.